Dal libro dell'Esodo Allora il Signore disse a Mosè Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi Il popolo uscirà a raccogliere ogni giorno la razione di un giorno Poiché io lo metto alla prova Per vedere se cammina o no secondo la mia legge Ho inteso la mormorazione degli israeliti Parla loro così Al tramonto mangerete carne E alla mattina vi stazierete di pane Saprete che io sono il Signore, vostro Dio La sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento Al mattino c'era uno strato di rugiada intorno all'accampamento Quando lo strato di rugiada svanì Ecco, sulla superficie del deserto c'era una cosa fine e granulosa Minuta come la brina sulla terra Gli israeliti la videro e si dissero l'un l'altro Che cos'è? Perché non sapevano che cosa fosse Mosè disse loro È il pane che il Signore vi ha dato in cibo Donaci Signore Il pane del cielo Ciò che abbiamo dito e conosciuto E i nostri padri ci hanno raccontato Non lo terremo nascosto i nostri figli Raccontando alla generazione futura Le azioni gloriose e potenti del Signore E le meraviglie che Egli ha compiuto Donaci Signore Il pane del cielo Diede ordine alle nubi dall'alto E aprì le porte del cielo Fece piovere su di loro la manna per cibo E diede loro pane del cielo Donaci Signore L'uomo mangiò il pane dei forti Diede loro cibo in abbondanza Li fece entrare nei confini del suo santuario Questo monte che la sua destra si è acquistato Donaci Signore Il pane del cielo Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini Fratelli Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore Non comportatevi più come i pagani con i loro vani pensieri Voi Non così avete imparato a conoscere il Cristo Se davvero gli avete dato ascolto E se in Lui siete stati istruiti Secondo la verità che è in Gesù Ad abbandonare Con la sua condotta di prima L'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli A rinnovarvi nello spirito della vostra mente E a rivestire l'uomo nuovo Creato secondo Dio nella giustizia E nella vera santità Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Quando la folla vide che Gesù non era più là E nemmeno i suoi discepoli Salì sulle barche E si diresse alla volta di Cafarnao Alla ricerca di Gesù Lo trovarono di là dal mare E gli dissero Rabbì Quando sei venuto qua? Gesù rispose loro In verità In verità io vi dico Voi mi cercate non perché avete visto dei segni Ma perché avete mangiato quei pani E vi siete saziati Datevi da fare non per il cibo che non dura Ma per il cibo che rimane per la vita eterna E che il figlio dell'uomo vi darà Perché su di lui Il padre Dio Ha messo il suo sigillo Gli dissero allora Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro Questa è l'opera di Dio Che crediate in colui che egli ha mandato? Allora gli dissero Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto Come sta scritto Diede loro da mangiare un pane dal cielo Rispose loro Gesù In verità In verità io vi dico Non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo Ma è il padre mio che vi dà il pane dal cielo Quello vero Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo E dà la vita al mondo Allora gli dissero Signore Dacci sempre questo pane Gesù rispose loro Io sono il pane della vita Chi viene a me Non avrà fame E chi crede in me Non avrà sete Mai